Allora, 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 eccoci qua. Secondo la Corte di Appello di Torino ci sarebbe un nesso di causalità tra i telefoni cellulari, l'utilizzo dei telefoni cellulari e l'insorgenza dei tumori. Una sentenza shock che nelle scorse settimane, negli scorsi giorni ha fatto il giro del web, è stata pubblicata su praticamente tutte le testate, ha visto anche i quotidiani protagonisti e che abbiamo pubblicato all'interno di HDblog il 14 gennaio. Allora, quali sono gli accorgimenti, i suggerimenti che vorrei darvi in questo video e che usiamo noi tutti i giorni? Il primo, il banale, quello che tutti quanti vi potrebbero dire, anche probabilmente vostra nonna, è utilizzate l'auricolare quando telefonate. Ovvio, auricolari che ci sono di due tipi, quello a filo, il migliore, quello che assolutamente utilizziamo noi quando dobbiamo fare telefonate lunghe, quando sono in riunione, quando so che la telefonata che sto per intraprendere sarà almeno di un'ora, io sempre utilizzo delle cuffie con filo. Probabilmente le mie, me le avete viste, sono over-ear, delle grosse cuffione, ma insomma vanno bene qualsiasi tipo di cuffia a filo. Ma le cuffie bluetooth in realtà vanno benissimo. È chiaro che il bluetooth ha comunque una trasmissione wireless che è totalmente diversa dalle onde elettromagnetiche dello smartphone, ma comunque ha delle onde che hanno frequenti diverse, non fanno tendenzialmente male, soprattutto perché non vanno a scaldare, non hanno un'emissione di calore che genera poi calore all'interno del vostro padigliore auricolare e quindi tendenzialmente non vi dovreste fare problemi anche se state un'ora a telefono con le cuffie bluetooth, soprattutto perché probabilmente le cuffie bluetooth le utilizzate per ascoltare la musica magari diverse ore in treno. Ecco, in questo caso non vi dovete secondo me fare grossi problemi, almeno se allo stesso tempo non vi fate problemi sulle onde elettromagnetiche del vostro smartphone e magari lo tenete sempre in tasca davanti ai vostri pantaloni. E qui l'altro suggerimento, soprattutto per noi maschietti, tenere lo smartphone sempre nella tasca anteriore non è d'aiuto. Vi consiglierei di portarlo nella tasca posteriore oppure meglio ancora in borsette, marsupi, nella tasca del giubbotto magari in inverno o magari tenerlo in mano perché comunque più distante dal corpo, anche di pochi centimetri, davvero in maniera significativa sono minori le onde elettromagnetiche che ci attraversano il corpo. Un altro suggerimento importante che noi affrontiamo quasi quotidianamente sono le chiamate in auto. Evitate di fare le chiamate in auto molto semplicemente o anche in treno o comunque in tutte quelle situazioni in cui siete in movimento in un luogo chiuso per cui la macchina tendenzialmente va a chiudere le onde elettromagnetiche all'interno di un piccolo ambiente dove rimbalzano tra virgolette nelle pareti dell'abitacolo e quindi vengono assorbiti in maniera maggiore dal nostro corpo, vengono non assorbiti scusate vengono attraversati nel nostro corpo da maggiori onde elettromagnetiche. Inoltre, cosa importante, durante gli spostamenti il cellulare va a agganciare celle diverse, fa uno scambio di dati e di connessioni maggiore rispetto a una posizione statica e dunque emana più onde elettromagnetiche. Evitate dunque, se possibile, chiamate e prolungate in auto o in treno. Ma magari voi non avete gli auricolari sempre con voi e allora il suggerimento qui è duplice. Quando fate una chiamata, quindi quando fate partire una chiamata verso un terzo, un interlocutore che dovete raggiungere, lanciate la chiamata ma mettete il telefono all'orecchio solo quando la persona risponde perché nei primi 5-10 secondi di connessione, quindi dal momento in cui lanciate la chiamata al momento in cui la persona risponde, c'è un picco di radiazione, un picco di onda elettromagnetica che si attenua, poi diminuisce nel momento in cui la chiamata parte e avviene la conversazione. In quel caso lì lanciate la chiamata, magari mettete prima voce, aspettate la risposta e poi lo mettete all'orecchio il telefono. Altro suggerimento, il secondo, quando portate il telefono all'orecchio, se lo lasciate anche un centimetro di distanza tra il vostro padiglione, il vostro orecchio e il telefono va a diminuire sostanzialmente e sensibilmente la quantità di onde e il calore generato sulla vostra faccia dallo smartphone. Questo è un consiglio banale ma che a lungo andare chiaramente potrebbe far la differenza nel momento in cui, diciamo, utilizzate come noi lo smartphone per fare 2-3 ore di chiamate al giorno. Ecco, quindi, in questo modo sentirete comunque bene, ormai gli smartphone hanno degli ottimi audio, non disturberete tutti col viva voce, ma comunque va sicuramente bene. Discorso analogo, quando sentite i messaggi vocali, invece di tenere il telefono attaccato all'orecchio, fate come fanno un po' tutti, in realtà si vede spesso in giro, usate magari il viva voce a un volume basso, ma tenete il telefono in questo modo, in modo da ascoltarlo dalla capsula, scusate, dallo speaker e mantenere una buona distanza tra il telefono e il messaggio vocale, perché lo smartphone, d'altra parte, continua sempre a comunicare e a mandare onde perché è sempre connesso a internet, è sempre connesso a ricerca della rete e quindi, anche se il messaggio vocale non è una chiamata, comunque c'è uno scambio continuo di onde con le celle e con gli operatori. Un altro consiglio è quello, banalmente, di non mantenere lo smartphone vicino al comodino quando dormite. Anche in modalità aereo può essere la soluzione migliore, ma se la modalità aereo non la potete mettere, perché magari dovete essere reperibili sempre e comunque, o volete esserlo, è meglio appoggiare lo smartphone in terra a circa un metro, un metro e mezzo dal vostro letto, perché comunque non è alla stessa altezza della vostra testa, rimane più basso, il pavimento in qualche modo va a mitigare quelle che sono le onde elettromagnetiche, ma comunque la distanza di un metro e mezzo è una distanza che può essere considerata accettabile, consigliabile, se proprio non potete fare a meno di avere lo smartphone in camera vostra e quindi dovete sentirlo in realtà. Se dovete essere reperibili, vi basta mettere la suoneria al massimo, mettere il telefono nella stanza accanto, se non siete dei ghiri, tendenzialmente lo dovreste sentire e vi dovreste svegliare. Magari potete levare la connessione dati in modo tale da non essere svegliati da bip 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 di email, whatsapp o telegram. L'utilizzo poi di una smart band o di un orologio, tendenzialmente connesso sempre via bluetooth, vi permette comunque di avere lo smartphone in tasca del giubbotto, in una borsetta, ma poter vedere le notifiche, poter vedere le chiamate e quindi andare a prendere lo smartphone soltanto nel momento in cui a quella chiamata o a quella notifica dovete necessariamente rispondere, in un modo per allontanare un po' lo smartphone dal vostro corpo. Allo stesso modo se siete in ufficio anche soli e quindi non disturbate, rispondete, mettete il viva voce, usate il viva voce per comunicare perché è addirittura meglio degli auricolari, perché comunque il viva voce vi permette di non avere assolutamente niente intorno alla testa, intorno alle orecchie e quindi poter comunque comunicare con il telefono completamente, diciamo così, distante da voi. È chiaro che a seconda del prodotto che avete, la distanza può essere maggiore o minore per farvi sentire e ascoltare quello che dicono gli altri. Infine vorrei sfatare due miti sul wifi e sul 5G. Wifi, non avere il wifi in casa per scelta perché le onde del wifi fanno male e quindi voglio evitare di avere il wifi in casa, è un po' un paradosso, soprattutto se abitate in una città o in un paese dove sicuramente reti wifi attraversano la vostra casa quotidianamente. Dunque prima di pensare di non mettere il wifi, accendete il wifi sul vostro smartphone e controllate quante reti effettivamente passano intorno alla casa vostra, probabilmente tre o quattro passano comunque tra salotto, camera e tutte le vostre stanze. Dunque il consiglio è evitate magari di mettere il wifi, o meglio il repeater wifi o il router wifi, in una stanza dove passate tantissimo tempo. Quindi magari non lo mettete in camera da letto, non lo mettete in ufficio, cercate di metterlo in una zona dove tendenzialmente c'è massima apertura, dove riesce ad arrivare in tutta la casa senza darvi fastidio. Un altro consiglio, se utilizzate un repeater potreste impostare quel repeater in modo tale che se è vicino alla camera, dalle 22 la sera si spenga e si riaccenda magari alle 8 in modo tale che quando dormite non avete davvero nessuna interferenza wifi, almeno per quello che avete in casa vostra. Poi probabilmente il vicino sul muro accanto c'è il router esattamente dietro al vostro cuscino, ma non lo potete sapere. Invece sul 5G ci sono tante polemiche, cioè si leggono quasi ogni settimana articoli legati proprio alla copertura del 5G e a quanto faccia male il 5G, tra l'altro anche qua in descrizione l'articolo su gli uccelli morti con il 5G, che ovviamente non è così, ma il 5G potenzialmente dovrebbe essere una connettività che sarà meno dannosa per quanto riguarda le emissioni di onde elettromagnetiche rispetto al 4G, ovviamente quando sarà effettivamente diffuso in maniera ampia. Al momento iniziale chiaramente le antenne sono poche, ci sarà la massima spinta, la massima potenza da parte di queste antenne per raggiungere le zone, quindi chiaramente le onde saranno più forti, ma nel momento in cui il 5G diventerà capillare, avendo una impostazione molto limitata da tante piccole antenne che serviranno davvero piccoli quartieri, ma in realtà anche piccoli incroci, piccole zone, 5 case, a quel punto sono antenne più piccole che emaneranno radiazioni in maniera meno potente rispetto all'antennona 4G che magari avete sul vostro palazzo e che le spara. È chiaro che in realtà poi è un di più, perché le antenne 4G rimarranno per i prossimi 10 anni almeno, finché il 5G non andrà a sostituire completamente anche il 4G, quindi se ne riparerà probabilmente tra 20 anni. E magari tra 20 anni si scoprirà che tutto quello che vi ho detto è fondamentalmente inutile, perché ci sarà la prova provata, scientifica, che le radiazioni elettromagnetiche faranno male alla salute nostra e degli altri. Ma questo è il futuro che non possiamo conoscere. Vi invito a commentare qua sotto per sapere la vostra opinione e se avete magari dei suggerimenti ulteriori a quelli che vi ho dato che magari applicate quotidianamente nel vostro utilizzo dello smartphone da suggerire a tutti i lettori che ci stanno seguendo. Ciao!